Ciao ragazzi, dalla rubrica ho più Mivar che capelli, oggi vi faccio vedere l'ultima arrivata trovata dalla vicina di casa che la stava per buttare via. L'ho vista nel giardino su una sedia e le ho detto ma questa tv la butta via o la usa ancora? E lei mi ha detto guarda mi fai un favore se me la prendi perché devo buttarla via e non so come smaltirla. Perfetto, subito presa. subito carrellata questa è quella più grande che ho e la Mivar da 28 pollici poi ho questa più piccolina da 14 alla quale ho collegato l'Amiga 500 e il Commodore 64. Questa qua dove ci ho collegato il Mega Drive l'ho messo in un angolino provvisorio e poi l'ultima arrivata quella della signora della vicina di casa una bellissima Mivar d'acqua.